A me sinceramente il mio contratto non mi interessa più niente, io voglio pensare solo a giocare e al bene del Pescara, dopo a giugno come ha detto Daniele e Sebastiani si vedrà, però per me è importante e fondamentale fare bene il mio lavoro, io sono stanco di sentire i miei nomi sui giornali, contratto, pinna, 10.000, 20.000, basta, a me non me ne frega niente, scommetto su me stesso, voglio rimanere a scadenza, arrivo fino a giugno, dopo se ci sarà da andare a lavorare, giugno si andrà a lavorare, ma non credo, sarà difficile perché sono sicuro che mi guadagnano un altro contratto. Con il cuore che basta è più forte, la vita che va e non va, al diavolo non si vende, si regala, con l'anima che si pede, metà e metà, con l'animo sole, con la rabbia nel cuore, con l'osso d'amore, in quattro pelone. E già, lui è ancora là. A difendere la porta, vestendo i panni del guardiano biancazzurro, inanellando superprestazioni una dopo l'altra, respirando l'aria frizzante dell'alta classifica a pieni polmoni, dopo aver fronteggiato la burrasca del mese di gennaio. Lui è ancora là, a 36 anni suonati, con lo spirito di un ventenne, ad incassare i complimenti degli avversari di turno. 27 presenze su 27 da titolare, contro l'Empoli ha allungato la propria imbattibilità casalinga portandola a 503 minuti. È la massima in questo campionato, nessun altro portiere ha saputo far meglio finora. Record e parate che gli sono valsi attestati di stima in ambito nazionale, dopo tanta gavetta e finalmente protagonista in B. Ha scommesso su se stesso, mettendo a tacere le chiacchiere sul suo rinnovo, provando a meritarsi sul campo l'agoniata conferma. A giugno si vedrà, ma crediamo che la sua scommessa l'abbia vinta già. Con l'aria, col sole, con la rabbia nel cuore, con l'odio, l'amore, in quattro parole, lui è ancora là. E già. Io sono ancora qua. Io sono ancora qua. E già. E già. E già. E già. Oh. E già. E già.